sono stato all'anteprima di morbius grazie a igiene italia il sito per cui scrivo questa è la molto carina felpa che regalavano e forse è l'unica cosa bella che ho visto oggi perché si morbius qua lo vediamo interpretato da jared leto è un brutto brutto film non mi focalizzerò sui vari motivi per cui è brutto ne chiacchiereremo sicuramente in qualche diretta magari sul mio canale twitch o ne chiacchiereremo ancora se ce ne sarà il bisogno fatemi sapere poi nei commenti quando lo vedete che ne pensate voglio dedicarmi ad altro in questo video anche per dimenticare la bruttura che ho visto devo dire meno brutto dei due venom sony questa volta non mi ha quantomeno irritato con tutte quelle battute che non facevano assolutamente ridere mai mai che c'erano in venom e con quella recitazione fuori dalle dalle righe da ogni grazia divina di tomardi e questa volta leto perlomeno ci crede un po di più il problema che ci crede davvero solo lui anche quando ripete le frasi che gli hanno scritto in questo veramente veramente film pessimo ma parliamo d'altro parliamo d'altro parliamo attenzione delle scene dopo i titoli di coda perché allora questo film in cui fra l'altro vediamo morbius insomma il vampiro vivente interpretato già red leto più così che così che è l'aspetto con cui in teoria avremmo dovuto vederlo per tutto il film perché nei fumetti morbius di fatto ha questo aspetto è dannato per questo ok nel film la mettono giù col fatto che non può nutrirsi di sangue artificiale ma nel mondo marvel dopo cinque minuti il modo di non uccidere gli umani l'hai trovato sicuramente quindi la sua dannazione appunto durerà il tempo dei titoli di coda di questo film e poi sarà semplicemente un super figo come sempre il film finisce morbius diciamo diventa una sorta di eroe perché comunque per tutto il film non ci fa altro che ripetere ed è importante questa cosa che è un eroe che non uccide che non vuole uccidere anzi il suo nemico amico d'infanzia ma poi nemico viene milo quando muore muore con la consapevolezza di aver fatto qualcosa di sbagliato e morbius continua a ripetere questa cosa che lui di fatto è buono è un eroe e anche la città un po sembra comprendolo anche l'ispettore di polizia quando capisce subito che non è stato lui a uccidere i tizi fuori dalla discoteca a un certo punto nel film quando alla fine morbius vola via qui pipistrelli fa quella faccia lì un po da commissario gordon no c'è capito del tipo magari gli inizi con batman ok questo è un pazzo un mostro però mi sa che è buono che la città può fidarsi di lui quindi il film nel caos e nel trash che propone in realtà ti dà un morbius eroico cioè di fatto è un buono io non me la sento di dire che morbius alla fine di questo film è cattivo ok ecco adesso capirete perché mi sto focalizzando su questo aspetto il film finisce morbius insomma è ormai il vampiro vivente che tutti i fan marvel conoscono in cui anche ora chi non legge i fumetti purtroppo in una versione credetemi non all'altezza del personaggio che non è tra i personaggi più popolari della marvel più famosi ma è stato comunque protagonista di qualche storia interessante ha un background interessante poteva essere sviluppato in maniera interessante che non è quella che sony ha deciso di perpetrare no in questo in questa sua riduzione cinematografica il film finisce e inizia la prima scena prima di parlare delle scene però parliamo anche di quello che non c'è nel film perché questa scena che nei trailer aveva fatto impazzire tutti non è presente morbius scappa a un certo punto dalla prigione per andare a appunto affrontare milo si vede nel film che ha questa questa questo cappuccio che si toglie ma anche a questa scena in cui nel vicolo lui se lo toglie in cui vedevamo un'immagine di spiderman con scritto assassino trailer ingannevole sì la mia idea è che in realtà sony non sapeva esattamente dove andare a parare con no way home o cosa fare dopo come trattare il multiverso anche in base al resto dell'mcu quindi ha costruito questo film un po alla belle meglio adattandolo successivamente a gli eventi di no way home come è successo per dottor strange con nell'mcu che comunque dove essere ambientato prima di no way home poi l'hanno ambientato dopo purtroppo è uscito dopo previa della pandemia eccetera eccetera spiderman arrivato prima hanno dovuto fare delle nuove scene per adattare al fatto che sia ambientato dopo sì ormai questi film vengono fatti un po così un po taglia e cuci non che prima non si facesse ma adesso per adattarli alla continuity bisogna farlo gli diamo l'attenuante che probabilmente sony davvero non sapeva dove sbattere la testa si vede nel film questa scena in cui un personaggio legge daily bugle e sono rimasti i riferimenti che vedete in alto a black cat e rhino che sono due giochi di parole ovviamente che però richiamano i nemici di spider man e il regista infatti ha detto che in teoria se in ogni universo della marvel c'è uno spider man anche nell'universo di morbius spider man dovrebbe esserci innanzitutto spiegatemi che dov'è perché se davvero uno spider man deve esistere non è ancora nato perché altrimenti tutto quello che accade nel film dubito avrebbe lasciato che accadesse spider man quindi se ci fidiamo del regista spider man deve ancora arrivare ma vedremo non c'è la oscorp l'oscorp è proprio scomparsa a meno che non me la sia persa io in qualche inquadratura cittadina ma non credo che ci sia c'è però la horizon che già si vedeva nei trailer e per cui di fatto lavora morbius l'horizon è una multinazionale siamo super tecnologica per cui nelle storie ha lavorato anche peter parker spider man quindi quando è stata nominata molti non sapevano cosa fossi ho detto ah l'horizon wow allora i collegamenti ci sono sia nel trailer che poi quando è successo nel film anche venom viene nominato si parla dell'incidente di san francisco parlando di del primo venom e lui stesso dice al ladruncolo chi sono io sono venom non c'è la parte in cui dice no scherzo mi chiamo michael morbius diceva una frase del genere dice solo io sono venom frase che tra l'altro senza quella no scherzo sono morbius mi è suonata ancora un po più strana e fuori da così dal dal film diciamo una specie di citazione gratuita ma vabbè facciamocela andare bene vi ho spiegato di queste cose anche dell'assenza di queste cose di riferimenti diciamo spider-man e ho calcato molto su questa cosa di michael morbius come personaggio buono perché le due scene dopo i titoli di coda coinvolgono michael keaton michael keaton ovvero l'avvoltoio di spider-man homecoming l'avvoltoio dell'mcu del marvel cinematic universe non dell'universo di sony quindi di morbius e dei due venom certo ci hanno insegnato che nel multiverso nella marvel le varianti possono avere anche lo stesso aspetto in teoria sembrava dovesse avere sempre lo stesso aspetto ma no way home in realtà ci ha fatto vedere che gli spider-man non sono tutti uguali a tom holland però all'inizialmente inizialmente si pensava che questo avvoltoio questo adrian tombs fosse una variante di quella dell'mcu perché non avrebbe senso altrimenti che quella avvoltoio si trovi in questo universo no sono due universi separati no way home l'ho chiarito vi ricordate la scena finale in cui venom finiva nell'universo di no way home ok il film finisce e infatti si vede il cielo che si apre con una spaccatura una fenditura violacea quindi quella di spider-man no way home quindi insomma il film si può dire sia precedente a no way home anche se con lo spazio tempo insomma l'ordine delle cose non sempre è così così chiaro il cielo si apre e in una cella immagino il contraltare della cella dell'mcu cioè nello stesso punto dell'universo in cui adrian tombs era nella cella dell'mcu si ritrova nella cella del mondo di morbius e di venom quindi adrian tombs ha fatto il contrario di venom è andato dall'universo marvel l'mcu quello principale all'universo sony perché non si sa non si sa ovviamente non viene spiegato lui stesso fra l'altro non sa dove si trova ma intuisce di essere in un altro universo lui dice speriamo che almeno qui si mangi bene cioè intuisce di aver fatto un passaggio dimensionale perché dovrebbe intuirlo non lo sappiamo insomma non ci viene spiegato nulla io spero che almeno una piccola spiegazione ci venga data prima o poi perché l'incantesimo di strange mi sembrava chiaro tutti venivano rimandati di là ma tutti quelli che sanno chi è peter parker allora per un incasinamento ulteriore anche lui è finito dall'altra parte questo il film non ce lo dice però solo dalla faccia e dalla battuta che fa capiamo che adrian tombs è uno bravo ad adattarsi a parte il culo di finire in una cella vuota in questo universo comunque viene rilasciato viene mandato fuori perché lo spiegano anche i telegiornali tombs è apparso misteriosamente lì non ha fatto niente di male tra l'altro in questo universo non so se lui esiste o no il fatto che nessuno dica che questo non ha i documenti insomma venga rilasciato così sulla fiducia perché così sembra mi sembra un po una cazzata ma del resto il film ne ha fin troppe comunque prima scena è questa tombs passa dall mcu all'universo di morvius e venom il perché il per come non lo so non ce l'hanno spiegato quindi se non l'avete capito non siete stupidi sono loro che fanno le cose a caso ma attenzione seconda scena morvius sta volando sta volando di qua così per la città esceva verso una zona desertica no esce in macchina scusate quella dove volava era la scena di prima esce in macchina accelerando come un pazzo arriva in una zona desertica e sembra che abbia un appuntamento chi arriva ma ovviamente sempre lui sempre tombs che si è costruito lo stesso costume che si era costruito nell mcu in spider-man oncoming cioè questo qua c'è anche una bel primo piano è leggermente diverso il casco il morvius mi è sembrato più beccuto più simile a un avvoltoio e dice ciao morvius ciao michael grazie per aver accettato il mio invito l'invito a incontrarci io vengo da un altro universo da un altro posto da un altro mondo ora non ricordo perfettamente la frase il film l'ho visto una volta sola e dice non so perché mi trovo qui credo che la colpa sia di spider-man un nome che tra l'altro a morbius non sembra dire nulla o dovrebbe dire qualcosa spider-man c'è non c'è lo sapete no anche questo non c'è stato chiarito però dice credo che io e te se ci alleiamo potremmo fare delle cose molto interessanti e morbius ragazzi risponde intrigante buio ma è una scena che non ha senso cioè ok ci saranno delle parti tagliate delle cose che ci verranno spiegate probabilmente nei film futuri ma perché l'avvoltoio di keaton innanzitutto dovrebbe avercela con spider-man perché ha compreso che è stato spider-man il colpevole avrà fatto delle indagini tutte cose che spero ci spieghino però se fanno come i nuovi home non ci spiegheranno niente questo mi preoccupa e perché dovrebbe chiamare morbius forse ha chiamato anche venom probabilmente le ha sapute da venom queste cose prima ce lo spiegheranno poi morbius perché dice intrigante perché perché sembra accettare la proposta di un criminale ok magari in questo universo non ha fatto ancora nulla l'avvoltoio arriva dal cielo arriva vestito con il suo costume e morbius dice boh magari nel frattempo non sappiamo quanto è passato dal resto lui ha avuto il tempo di costruirsi un armamentario simile magari sono passati anche mesi magari nel frattempo spider-man è comparso non si sa magari la gente più abituata ai supereroi non lo sappiamo però morbius sembra accettare morbius che era buono una persona buona senza sapere neanche chi è questo tizio o perlomeno ripeto magari si sono informati entrambi morbius di lui lui di morbius ma questo il film non ce lo dice stando al film morbius accetta l'invito di un tizio vestito in questa maniera e che parla in un modo che non sembra uno di cui fidarsi ci arriva c'entra un certo spider-man che lui non sa non sa morbius chi dovrebbe essere ma io credo che se io te ci alleiamo potremmo fare qualcosa di interessante e lui dice intrigante ma intrigante di cosa ma se uno scienziato se uno scienziato che che ha un premio nobel rifiutato ma premio nobel che doveva curare una malattia al sangue perché dovrebbe interessarti minimamente un tizio vestito da avvoltoio un ingegnere che vuole fare cose con te e ti dà appuntamento in un deserto cioè quando si sa chi sei perché non è andato a casa sua perché non si sono visti in un'altra maniera con delle mail con delle cose ripeto cose che magari sono successe off screen ma che questo film non ha voluto spiegarci ce l'ha voluto buttare così due scene veramente folli e non so a cosa possano portare queste cose perché in teoria toms adrian toms l'avvoltoio non dovrebbe ricordarsi che spider-man è peter parker evidentemente ha un ricordo in base a quello che ha cercato ha capito che spider-man è colpevole di qualcosa forse toms sarà colui che fonderà una sorta di sinistri sei di squadra per tornare nell mcu perché io credo che toms voglia tornare da sua figlia dalla sua famiglia e quindi dà la colpa spider-man per questo e perché morbius dovrebbe allearsi venomo potrebbe venon magari vorrebbe tornare nell'universo dell mcu a riprendere il suo pezzettino che ha perso perché magari in qualche modo ci è legato nei fumetti è capitato che venon perdesse il suo pezzo di simbionte non fosse più completo in qualche modo dovesse tornare a essere completo appunto quindi a riavere il suo simbionte integro perché magari la parte persa era importante potrebbero fare una cosa del genere però questo ragazzi mi fa pensare che quindi l'universo sony non è davvero diviso dall mcu oramai perché la scena dopo titoli di coda di no way home ci lasciava per esagire questo ma in realtà no in realtà toms cioè se ce lo lasciano di là hanno reso una figlia per quanto fosse un criminale orfana di padre per colpa di fatto di spider-man una cosa che non credo vogliono fare quindi il mio timore che il multiverso sia destinato a tornare e che questi troveranno il modo di tornare nell mcu del resto nei fumetti è capitato che il misterio dell'universo marvel tradizionale trovassi un passaggio per andare nell'universo ultimate e infatti il misterio dell'universo ultimate era il nostro misterio che arrivava dal nostro mondo dall'universo marvel principale lo chiamo il nostro mondo per conquistare l mcu l'universo ultimate magari qui faranno la stessa cosa forse tom holland si scontrerà con dei sinistri sei multiversali e questo potrebbe voler dire addirittura il ritorno di altri spider-man magari di una spider-man una sorta di ragno verso live action come la saga fumettistica o come il film spider-man un nuovo universo che comunque in qualche modo la riprendeva io temo che il multiverso non ce lo siamo tolti di torno e questo è quanto due scene veramente senza senza senso soprattutto per la caratterizzazione di morbius che non è un personaggio ben riuscito come il film non è un personaggio ben riuscito ma perlomeno ci era stato presentato in un modo da inizio alla fine con quel suo accettare alla fine per me è uscito dal personaggio in una maniera assurda vediamo vediamo cosa succederà vediamo doctor strange the multiverse of madness come tratterà il tema del multiverso vediamo se davvero compariranno degli spider-man si vocifera che potrebbe comparire lo spider-man di toby mcguire del resto del film è di semraimi quindi magari potrebbe averlo voluto nel suo film ne chiacchiereremo a tempo debito grazie di avermi seguito in questa disamina folle sul multiverso vi dico solo che in sala c'era una ragazza a pochi posti da me che probabilmente non scrive per una testata particolarmente nerda o non si occupa di andare a scavare a fondo di queste cose nerd che mi ha detto ho bisogno di un bignami perché sto cominciando a non capire più nulla di questa cosa del multiverso e la verità è che nemmeno loro forse sanno tutto e anche noi siamo parecchio parecchio confusi comunque questo è keaton la voltoio ora nell'universo di venom e di morbius e io credo voglia tornare nell mcu ne vedremo delle belle chi lo sa di certo morbius è destinato a ritornare indipendentemente forse dal successo del film se dovesse fare schifo magari invece che un film singolo potrebbe arrivare in un film corale l'unica certezza ragazzi è che è veramente un film brutto che vogliate ammetterlo no è davvero un film brutto grazie per aver seguito questo mio sproloquio vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di venire a cercarmi anche su twitch perché lì faccio un sacco di live molto interessanti su cinema fumetti video games e alla prossima ciao